Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai discepoli Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di nora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace non come la dà il mondo e la do a voi non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre perché il Padre è più grande di me ve l'ho detto ora prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate parola del Signore 22 maggio 2022 sesta domenica del tempo di Pasqua anno C dal Vangelo di Giovanni capitolo 14 versetti 23 e 29 man mano che ci abbiamo verso la fine del tempo pasquale quindi il vertice del tempo pasquale saranno le due prossime feste dell'ascensione e della Pentecoste ecco la liturgia ci fa ascoltare le promesse che Gesù fa nei discorsi dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni del suo spirito Gesù scompare da un punto di vista fisico non lo vediamo più non ce l'abbiamo più fisicamente in mezzo a noi ma non ci lascia soli ci dona il suo spirito e allora questo spirito che il Padre manderà nel mio nome dice Gesù lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto vi ricorderà non è solo così una questione mnemonica di ricordare intellettualmente ciò che Gesù ha detto ciò che Gesù ha fatto certo anche questo ma è proprio un riportare al cuore come dice la parola ricordare ridare al cuore cioè ritornare sempre e di nuovo a sperimentare la presenza viva di Gesù ecco che cosa fa lo Spirito Santo tra le tante cose è lo Spirito che ci fa incontrare Gesù vivo nella nostra vita è lo Spirito che ci fa sentire le sue parole quando leggiamo il Vangelo come delle parole vive non solo come un testo antico di riflessioni medio orientali ma come la parola viva che Gesù oggi ti dice è lo Spirito che cambia i cuori affinché come dicevamo domenica scorsa possa amare come Gesù ha amato insomma è lo Spirito che come ha guidato Gesù come lo ha formato nel grembo di Maria e come lo ha accompagnato e sostenuto e ispirato per tutta la vita adesso la stessa cosa continua a farla in quel corpo vivo di Cristo che siamo noi che è la Chiesa continua a formare Cristo nei nostri cuori continua a mandarci in missione come Gesù continua a guarire continua ad annunciare continua a tenere viva questa Chiesa che senza lo Spirito sarebbe veramente un cadavere un'organizzazione obsoleta mentre nello Spirito la Chiesa è davvero il corpo vivo di Cristo chiediamo allo Spirito di guidarci chiediamo allo Spirito di non chiuderci alle sue ispirazioni lo Spirito è vento lo Spirito è fuoco come tanti simboli non è solo la colomba lo Spirito è qualcosa che spinge spinge come appunto diceva Benedetto XVI le vele della barca della Chiesa come il vento e la fa andare avanti lo Spirito è fuoco che arde e fa ardere i cuori chiediamo allo Spirito che dia nuovo slancio alla nostra Chiesa e a ciascuno di noi per farci sperimentare la presenza viva di Gesù nella nostra vita e a ciascuno di noi è fuoco e a ciascuno di noi tutto il mondo è fuoco e a ciascuno di noi e a ciascuno di noi è fuoco Grazie.